guarda mamma si mette dentro guarda l'ha ammazzata no ha ammazzato ci sono ceronde ci sono ceronde Marti non vai finto ti ho già spiegato figurati se si muovessi tu vorrei anche vedere le ceronde vivo Marti, Laura, come sta poco? questo è il tirannosauro retto Laura più vicino se stai al chilometro è finto Laura puoi entrare non fai niente ho visto Marti toccalo e questo se l'è mangiato è rinoceronte o ce lo facciamo pure a Valeria? Martina gira guarda quando è grande guarda quando è grande papà vieni a vedere cosa è stato hai visto quello l'ha mangiato è grande questa tirannosauro rex ha paura Franceschia Franceschia ti dare proprio paura no niente di meno non lo volevo nemmeno toccare Franceschia Marti e tu ma vedi come è grande questo è il tirannosauro questo è il tirannosauro Giorno guarda vedi vedi veramente questi stili questi besti ma poi danno seppelliti gli schiedi e i tripelli dove si vede gli schiedi li stanno trovando mano a mano è grande ma se ce lo puoi mettere a Franceschia continuiamole capito mamma questo come si chiama? tirannosauro rex che ci dice la maestra? che hai visto? tirannosauro rex e questo qua si chiama triceratops e il nero c'è ah 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 oh ciao ti senti il parimo